Mi trovo a Rutino sabato 22 dicembre 2018 in occasione della seconda serata dell'evento Natale al Borgo organizzato dal comune di Rutino e dalla Proloco. Questa serata è dedicata all'ospitata dell'associazione Nascetta Novi la quale ha portato qui proprio a Rutino la sacra rappresentazione già avvenuta a Novivelia la scorsa settimana. La rotta libertà Purtroppo le condizioni climatiche hanno impedito la rappresentazione appunto nel migliore dei modi però un breve esagio si è tenuto partendo dalla piazza venendo qui in chiesa. Evento che è stato diciamo rimandato però stasera è giusto aver dato appunto importanza appunto a questo evento che sarà ripetuto. Per noi quello che conta innanzitutto è aver ospitato gli amici di Novi, riteniamo che questo rapporto di fratellanza si stia soggellando sempre di più quest'anno e più dell'anno scorso e quindi questo per noi è il punto più importante, fondamentale. Poi certo le condizioni climatiche non ci hanno aiutato ma questo è anche un rischio del periodo, non è possibile prevedere una serata che piova o non piova, va così. Ci dispiace, ci dispiace per chi si è bagnato, per chi è arrivato con l'intenzione di vedere una rappresentazione fatta benissimo dagli amici di Novi che purtroppo è rimasto imprigionato da questa pioggia che non ci ha consentito di assistere in modo corretto. Però ringraziamo comunque gli amici di Novi anche quest'anno qui con noi, sicuramente ancora più il prossimo anno. Però c'è stato un bel po' di gente, è venuta anche in chiesa. Assolutamente sì, la partecipazione c'è comunque. Allora dall'amministrazione comunale di Rutino, da Rutino, da tutti i rutinesi auguri a tutti i telespettatori di Cilento Channel, a tutti coloro che seguono questa televisione così presente, così capace di raccontare il territorio, ogni giorno con tanta voglia, tanto entusiasmo e soprattutto un bravo all'amico Daniele che non fa mancare mai la sua presenza e la sua grinta nel seguire tutto. Allora dall'amico Daniele che non fa mancare mai la sua grinta nel seguire tutto. Sì, le ringrazio sempre dell'ospitalità che ci danno ogni anno. e voglio ringraziare l'amministrazione comunale, in primis il sindaco Rotolo per l'ospitalità e la Proloco che ci ha accolto come sempre a braccia aperte. Stando la pioggia, infatti adesso ha smesso di piovere, la piccola rappresentazione che è stata rimandata, le signore delle Zeppole a Rutino sono in azione. Allora, come va? Tutto bene? Tutto bene, grazie. Siamo vissi l'estate. Certamente, a noi non ci fa paura la pioggia. Facciamo un grandissimo buon auguri di Santo Natale per tutte le feste Capodanno, che sia una vita serena, tranquilla, piena di amore e di gioia, che i cuori si riempano di festa. Signora, lei mi ricordi il nome? Esposito Maria Antonietta. Allora, Maria Antonietta, come dicevo con la signora, ma voi siete proprio bravi a fare le Zeppole qui a Rutino? Eh sì, diciamo che ce la caviamo. E auguri di buon Natale a tutti quanti rutinesi, fuori di rutine, a tutta l'amministrazione comunale, al sindaco, a tutti i comunali. Grazie a tutti.